Torna a manifestare contro il parcheggio interrato di Piazza degli Artisti, il quartiere napoletano del Vomero, e lo fa con un presidio di protesta organizzato sabato mattina in vista di un'assemblea pubblica che si terrà domenica 12 febbraio. Non è la prima volta che cittadini, associazioni e mercatali della zona del mercatino dell'Antignano scendono in piazza contro la realizzazione di 800 box privati, nel sottosuolo compreso tra Piazza degli Artisti, dove si è radunata la manifestazione, via Tino da Camaino e via De Bustis. Un progetto, quello dei box, che risale al 2010, quando sulla poltrona di sindaco di Napoli sedeva Rosa Russo Iervolino. E ora che l'attuale amministrazione sembra orientata a recuperare quel progetto, il focolaio della protesta si è riacceso. A organizzare la manifestazione e la rete di associazioni in no box, queste le motivazioni che hanno scatenato la mobilitazione, secondo Franco Di Mauro del Comitato San Martino, Pio Russo Kraus dell'associazione Marco Mascagne ed Ermete Ferraro di Verdi Ambiente e Società. Stamattina siamo qui per informare i cittadini di quello che avverrà, da qui a qualche settimana, qualche mese non lo sappiamo, ma è una cosa di cui si parla da diversi anni e adesso sembra che stia prendendo corpo questo fantasma che prevede uno scavo devastante in piazza degli artisti, via Tino di Camaino e Casale dei Bussis. Già 30 anni fa cercarono di costruire un parcheggio sotto il giardinetto di via Ruoppolo, noi ci opponemmo e per fortuna siamo riusciti a vincere, ora c'è il parco Marco Mascagna. È un progetto vecchissimo questo, appunto l'amministrazione comunale rispolvera progetti di 30-40 anni fa, dimenticando che il mondo è andato avanti, che abbiamo il problema dell'effetto serra, dell'inquinamento che si sono aggravati. Sarebbero uno scempio dal punto di vista ambientale per quanto riguarda la viabilità, dal punto di vista della sicurezza degli stabili, perché si tratta di scavare per quattro piani sotto teri in una zona molto delicata e dal punto di vista anche sociale, perché praticamente ci sarebbe una situazione di caos e di impedimento per tutti, quando poi in realtà ad avvalersene sarebbero solo alcuni.